Papa Francesco sarà a Salerno nel 2016 in occasione della giornata dei giovani del sud che molto probabilmente, su richiesta del cardinale Crescenzio Sepe, si terrà a Napoli. La notizia ancora non è ufficiale ma circola con insistenza in Vaticano. Per il pontefice si profilerebbe dunque un nuovo abbraccio al territorio campano dopo la visita pastorale del 21 marzo scorso e sarebbe stata pure programmata una tappa a Salerno. Papa Bergoglio partirà molto probabilmente da Potenza per atterrare all'aeroporto di Ponte Cagnano-Faiano. Tappa al seminario per un breve riposo e poi, secondo le prime indiscrezioni, l'incontro con i fedeli di Salerno che si terrebbe a Piazza della Concordia o allo Stadio Arechi. L'arrivo di Papa Francesco, anche se non ancora certo, già genera attesa nella comunità ecclesiale salernitana pronta a stringersi attorno al Vescovo di Roma. Papa Bergoglio proprio in queste ore fa ritorno in Vaticano dopo il viaggio in Bolivia, Ecuador e Paraguay, al momento il più lungo del suo pontificato. Otto giornate intense, quelle vissute in Sud America, con fittissima agenda di incontri. visite e discorsi, sia sul piano politico che pastorale. Come in tutti i suoi viaggi è stato accolto da folle festanti che sventolavano bandierine, santini, fotografie, spesso aspettando per ore sotto il sole, dormendo in tenda o addirittura sulle sedie preparate in vista della messa. Prima di ritornare in Italia, Papa Francesco ha incontrato i giovani paraguaiani sul lungo fiume Costa Nera di Assunzion.